Oggi è il 12 febbraio, domani in Corea, cioè il 13, cioè quando dell'ora sarà il 13, cioè fra 3 minuti dell'ora sarà mezza notte e quindi uscirà il video dei BTS. Io pensavo uscisse il 14, perché non lo so, cioè sapevo che la data era, cioè sapevo che sarebbe stata domenica, però continuò a vedere post in cui la gente, tanto se guardo così perché ci sono le mie amiche che mandano messaggi tipo ma sono 3 minuti. Vedevo messaggi post in cui dicevano che sarebbe uscito per San Valentino, perché dicevano San Valentino non saremmo sole, voglio morire anche io, cioè anche io voglio morire, questo video è che io voglio morire ancora 3 minuti. Allora, io non sono truccata, l'ho già detto nel video dei VIP, ma io la domenica non mi trucco, cioè nel senso ho un po' di matita e ho fatto, vado a fare il rossetto, ma si è sfocato e mi ha dato un coso rosso orrenda. Non posso andare adesso perché manco due minuti, io sto aggiornando il canale dei BTS anche se manco due minuti. Raga, morirò, morirò, morirò. Allora, ho la felpa dei BTS con il litro, non si vede, lì, poi ho l'astuccetto carino di TAE che ho comprato a Luca e niente, prendo il cuscino, giusto, giusto, giusto. Il cuscino a versione più o meno per l'edità e ce l'ho sul letto e lo tiro fuori, cioè lì sul letto che... Manca dei minuti! Un minuto! Sono 59, sono 59, se il telefono mi muore con la memoria mi dissiage, ma io lo pubblicherò il video lo stesso e sarà a metà, non mi interessa perché i video dei BTS devo uscire perché... Tipo sarebbe stupendo se uscisse il video Not Today e quindi tipo tu sei lì che aspetti Spring Day però esce Not Today, quindi haha, sono 59! La cosa che mi sorprende, poi da velocemente, perché ho pensato a noi qua che non potrò più fare parprasi con senso logico, non è nemmeno se non so, vai? La cosa è allucinante è che avevamo la teoria che uscissero due MV e sono usciti due Taser, quindi forse escono, poi magari ci fottono e ne esce uno Forza! Anche un minuto alle 4, dai! Voglio morire! E sono le 4, sono le 4, sono le 4, sono le 4! Non c'è il video, dove è il video, dove è il video? 5 minuti e 29 secondi, 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 5 minuti e 29 secondi! Fermi! Tutti! Ok? Ci sono tutti i titoli, ci sono tutti i titoli, ok? Ci sono uno! Ok? Allora, non riuscirò a ragionare a nessuna teoria mentre sono in queste condizioni perché io, adesso con il titolo, va? Salve il video, va a stare! Mi inizia! PAP! PAP! Ci sono le ali, mi ha fatto il pezzo alle ali! Perché? Perché ti vengono sulle ferrovie? Perché ti siedi sulle ferrovie? Perché ti inginocchi sulle ferrovie? Che belle mani! Dai, togliti da lì! Togliti da lì! Togliti da lì! Quanto sei bella, Cookie! Abbiamo la stessa maglia, più o meno! Togli! Ah! Mi fa tre di me! Togliti da lì! Togliti da lì! Togliti da lì! Togliti! No, non ci devi odiare! Dai, ci sono le mie mani! Ansi! Togliti da lì! Togliti da lì! Chiaré mi faccio un arco La bocina Dove la topo la roi Non sono concentrati sulla canzone sul video Mi manca i occhi Piano il video deve scegliere se le denti non poteva dare vita c'è come che si lava più le denti la vera vita perchè anche lui fa cosi adesso? viva la gioia dei soffi anni you never walk alone il divino è scarso però è il mio padre io vi giuro che starei lì ma poi non siete lì io non vi ho lasciato giurato questo è alto ragazzi sto male non perchè dimmi nei conti vedi non ci sono adesso ci sono gli anghi forza perchè? due quattro sei ok aspetta non 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 io non vuoi creare quattro c'è una caccia di giocino ho vinto i spagetti che cari la parola Ma che quale è che quello che fa fare? Allora Devo riguardarlo Devo riguardarlo Perché non mi ricordo più niente Del mio video Ho subito Da gioia A incomprensione Per poi salire E avere la tristezza Per poi scendere E essere confusa Perché è quella che sono adesso La canzone è stupenda Le loro voci sono stupende Le loro sono bellissime Io non so più che cosa dire Sono solamente che sono le brutte persone Che ci vanno a sapere A quest'ora Adesso La tristezza è dimezzata Perché tutte le armi sono morte In questo momento Le sopra sorrinate Infatti io sono qua Tutto ciò Tutto ciò Tutto ciò Tutto ciò Non è giusto Perché dobbiamo essere Dall'altra parte del mondo Perché loro devono essere In Corea Perché ne dobbiamo essere in Italia Perché è una brutta persona Perché mi devi vado a sapere Cos'è anche me Anche qua dietro Ovviamente Basta Non so Io Ogni volta che guardo Per la prima volta L'MV Dei BTS Sono veramente Tanto confusa Anzi Non mi ricordo neanche L'MV Infatti adesso Me lo riguarderò Se avete delle teorie Se avete Qualsiasi cosa Anche un Diamoci coraggio Diamoci coraggio E riusciremo a sopravvivere Anche con Video come questi Sono superi Ci vediamo Al prossimo video Dei BTS Che sarà Il 20 Sì Forse Ciao Allora Ho riguardato Il video Tipo 3-4 volte E Non ho realizzato subito Ma Non c'è la voce Di Hobie C'è Occhie troppo Modificate Non l'avessi sentita Ma io Non l'ho sentita E a questa cosa Non mi piace Infatti adesso Aspetterò la live Sperando che lui Vida le parti Perché se no Ha delle parti Poi anche G Non ne sono Presso Io secondo me La voce di G L'ho sentita Però la mimica Mi dice che non c'era E questa cosa Non quadra Però Raga Io sono in un momento Di trans Ok Sono in quel momento In cui non capisco Più niente E Sì Cioè Non capisco niente Ho ascoltato le altre tre tracce Not Today È stupenda Carica un motto E non vedo la ragazza E poi dopo c'è You never walk Anche è troppo bella È troppo bella E lì si sente Hobie E anche nell'altro È stato di fatto Che quest'album Lo voglio Assolutamente Perché c'è anche Coldwings E Coldwings Sono giusto a comprare Questo qui lo voglio La vita ingiusta con me Adesso mi sento veramente È al di fuori delle teorie Di fatto che Sono cose che non ho detto prima È che Tipo la scena in cui c'era Cookie Che si è messo a correre da solo Con tutti i suoi Yang Cioè all'inizio tipo Era lì che era Tipo Stamse a correre Poi dopo Appena visto che c'erano Tutti i suoi Yang Dietro Ha fatto un sorriso E devo Troppo di gioia Poi dopo anche la parte Vabbè c'è un star Suga Perché Suga Ha ucciso tutti Ha steso tutti Con quella Suga Poi dopo c'è Rap Monster Che all'inizio Non stavo capendo Sembrava tipo Un fantasma Non lo so Mi sembra I colori La luce Era troppo strano Sono cose che prima Non ho potuto realizzare Perché è la prima volta Che guardo un video Sono sempre Troppo Poi dopo Cookie Era nel treno Poi dopo Quando si è svegliato Sembrava tipo che No non lo voglio dire Non lo voglio dire Non lo voglio dire Però tipo Quando il treno è passato Tipo si è svegliato È come se Avessi realizzato qualcosa Poi dopo Vabbè Tai Su quei binari Mi ha riempito di tristezza In un modo assurdo E Jimin Con quei capelli rosa Non riesco a capirlo Jimin è come se sapesse qualcosa Poi quelle scarpe Lui le scarpe Se le aveva rossa Quindi le scarpe Non erano sue Ma erano di qualcun altro E poi Hobi Non ha parti I vocali Non l'ho sentito Io questa cosa Non mi piace Io vorrei aspettare subito La live Per vedere che lui ha parti Perché lui deve rappare E cantare Non mi interessa Qua stessa cosa Ma lui deve aver parti Mamma Rai Con la coreografia Ci pensate Oh mio dio Oh mio dio Vi saluto Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio